nella sua fabbrica come i generali di un tempo mio zio andava sempre avanti ai dipendenti nella sua fabbrica non si dicharava mai sconfitto quando ebbe la gamba sinistra attanagliata da una macchina per la lavorazione del ferro si fece mettere a posto l'osso e tornò in fabbrica per continuare a lavorare due settimane dopo si prese una vacanza perché gli fratturassero di nuovo la gamba e gliela mettessero a posto alcuni suoi concorrenti dimostravano per mio zio il rispetto dovuto a un degno avversario lo vedevano come un fuoco che ricorreva ad ogni sorta di astuzie per sconfiggerli e per ogni astuzia che i concorrenti riuscivano a sventare ce n'era un'altra pronta ad abbattersi sulla loro produzione mio zio era un vincitore della vita ma quando andò in pensione gli chiesi zio che cosa riviveresti della tua vita mi disse nulla perché in quello che ho vissuto non mi riconosco più ma come zio non ti riconosci più grazie a quello che hai vissuto si è diventato qualcuno sì mi è servito e ringrazio la legge ma adesso non mi serve più non ha più senso perché non ho più i condizionamenti interni che hanno motivato il mio modo di agire di quando avevo la fabbrica e come sei giunto a queste conclusioni semplicemente vivendo una maggiore coscienza grazie 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 grazie